Mi chiamo Paolo Meneghini e sono un valdostano per scelta. La prima volta che venne in Val d'Aosta fu nel 1975 per fare il militare. Subito mi sono innamorato di questa regione e ho trovato l'opportunità di avere un lavoro qui e quindi ho deciso di fermarmi. Fino a un paio d'anni fa non mi sono mai occupato di politica. A un certo punto un mattina mi sono guardato allo specchio e ho detto non è più possibile, bisogna fare qualcosa. Da quel momento mi sono dato da fare per cercare di bloccare la costruzione del pirogassificatore. È stata una battaglia molto interessante, bella, gratificante che è finita bene per noi perché i valdostani hanno capito che quello era un progetto folle, stupido, che portava solo agli interessi di qualcuno. Ma vincere il referendum non è servito, non è abbastanza perché l'attuale amministrazione fa di tutto per non fare una corretta gestione dei rifiuti per portarci all'emergenza. Per questa ragione ho deciso di darmi da fare in politica e ho scelto la lista PD sinistra VDA perché è una lista che si occupa dell'ambiente ma anche dei problemi sociali, perché senza giustizia sociale non può esservi sostenibilità ambientale. Valle d'Aosta bene comune è il nostro slogan, bisogna che la politica si occupi del bene di tutti e non degli interessi di alcuni.